La pietra scarpata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. La pietra scarpata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. E' meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. E' meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. La pietra scarpata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stata la mia salvezza. La pietra scarpata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore. Una meraviglia ai nostri occhi. La pietra scarpata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, vi benediciamo dalla casa del Signore. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. La pietra scarpata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. La pietra scarpata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo.